salve qui il vostro santen chan beh che argomenti abbiamo innanzitutto la sconfitta del movimento 5 stelle grillo avrebbe dichiarato che forse non l'hanno capito bene quando parlava di andare oltre hitler o che avrebbe fatto visibili se vivi sezionare un cane o una persona beh come dichiarazioni sono realmente molto rivoluzionari alla gente gli sarebbe bastato che avesse dichiarato non so che voleva migliorare la politica e castigare i corrotti adesso che cosa intendesse dire per che lui stava oltre hitler non si è capito un cazzo forse non lo so ma chi è il consigliere ufficio stampa del movimento 5 stelle e remondezza che interpretava thomas miglia perché diciamo l'elevazione intellettuale quella poi anche casaleggio è comparso i suoi interventi non sono stati molto brillanti forse perché si deve riprendere della malattia ecco io vorrei che marco travaglio ci illumini su quello che è successo nel movimento 5 stelle molte espulsioni molta dissidenza grillina ma soprattutto a morte e cazzate che neanche stanno all'altezza di quelle che diceva il comico beppe grillo per essere politico bisogna essere più serio almeno in un altro paese magari in italia no però ecco io sono rimasto con dei dubbi che cosa rappresenti questo io sono andato o io mi trovo o io sto oltre hitler che significa che è più cattivo che è più buono che se lui avrebbe il potere farebbe come pol pot che non era di destra ma che significa io sto oltre hitler sta fuori e fuso ma che cazzata e vabbè comunque le sue dichiarazioni forse hanno anche influenzato l'elettorato e gli hanno fottuto le elezioni dice che ha perso una battaglia ma non ha perso la guerra infatti tre le vinceva quasi tutte le battaglie poi ha perso la guerra vabbè lui è oltre il tre già ha perso la prima battaglia e poi riguardo i mondiali di brasile ancora non hanno finito di costruire gli stadi a meno di venti giorni ecco e poi ci assomigliano molto i brasiliani e poi noi pensiamo di essere l'ultimi nel mondo perché non finiamo mai le opere pubbliche a tempo invece il brasile ci supera ecco non so se peppe grillo stia oltre hitler o no però che brasile si trovi oltre l'italia sì infatti non ha finito la maggior parte degli stadi e addirittura non ha potuto collaudare massivamente le norme di sicurezza quindi è lì dove andranno a rifare i nostri tifosi in quegli stadi che sono ancora compiuti al giorno d'oggi e senza prove di sicurezza i mondiali sono una coglionata fregano gli stati con grandi debiti a me il calcio non mi piace non li seguirò poi dirò in un altro video perché il calcio non mi piace che è una droga un opio del popolo anche perché le squadre di calcio inclusa la nazionale sono degli enti o dei club privati che è un gioco che è stato inventato patentato e brevettato in inghilterra e in pratica è come un club quello mondiale dove si scrivono vari club privati perché si dice la roma la lazio la juventus però sono tutti tutte società private anonime operazioni e quindi anche le nazionali di calcio sono formate da tutti questi club privati magari regolamentate da enti nazionali o sovranazionali però sono club privati le società di calcio delle città e anche delle nazioni quindi è tutta una cosa privata il calcio tanto a livello mondiale come nazionale o regionale e poi ci cambierà la vita vincere perdere o pareggiare qualche partita o vincere o perdere il mondiale no magari ci fa più contenti poi bisogna aspettare le elezioni nazionali per vedere se i tre beppe grillo si supererà ancora una volta incazzate e perderà altri 3 milioni di voti perché poi dovrà fare un push di stato peccato che io avevo molte aspettative del movimento 5 stelle ecco ma dopo una dichiarazione che ha fatto io sto oltre hitler e non so che mi rappresenta politicamente non so da dove viene questo discorso è un po sbigottente vabbè quante cose si dicono ma lui proprio queste cose doveva dire forse sono rivelatrici del suo pensiero chi lo sa ma è grave un altro giorno è passato io so poco dei risultati delle elezioni tanto amministrative come europee ma chissà quanti risultati pratici concreti apportino le elezioni le votazioni regionali in italia ed europee e quanti no che cambierà nella nostra vita tanto per cominciare monti se lo sono messi fra di loro napolitano frutto di un inciucio letta perché monte se ne è dovuto uscire non faceva niente e adesso matteo renzi è stato uno scavalcamento di bersani che sebbene abbia vinto e non riusciva a governare forse con queste amministrative si spera di cementare un equilibrio politico per poi andare alle elezioni di fatto il pd ha vinto bene ha vinto con un 40 per cento dei voti che perlomeno regala al paese un po di stabilità adesso bisogna vedere il fatto di governabilità se sanno governare e sanno fare le cose importanti ma intanto qualche cosa è uscita fuori dal cilindro magico di queste elezioni o dell'urna magica di queste elezioni poi ecco sto cercando informazioni riguardo una persona che a mayemi ha cannibalizzato un'altra mangiandogli sfigurandolo parti del viso incredibile a cosa conducono le droghe ma poi soprattutto questa moda degli zombie è una moda un po strana farlocca e quindi qui lancio il mio appello innanzitutto a marco travaglio di spiegarmi che cosa sta succedendo nel movimento 5 stelle e in che senso beppe grillo ha superato hitler o polpoto stalin come non era lui che diceva che silvio berlusconi era hitler era stalin era mussolini adesso lui è più di silvio berlusconi si vede che da quando ha visto che renzi ha avuto successo bypassando berlusconi a destra e lui vuole essere più di renzi e più di berlusconi messi insieme allora volesse più di hitler e poi a pietro attraversi ciao spiegarmi un po che cos'è questa moda degli zombie che archetipo socculta dietro quale dominante oscuro e perché oggigiorno i drogati quando stanno fuori si sentono più degli zombie che non un'altra cosa poi va bene continuerò a fare dei video in youtube volevo fare dei commenti e dei libri in particolar modo nino il libro di sani gesualdi di nino frassica però ecco quello non lo leggerò perché cioè non è la stessa cosa che sentir parlare nino frassica siccome la peculiarità di quel libro sono gli strafaccioni grammaticali è una lettura molto larga da leggere a voce alta poi a volte ecco quando tu la legge divertente ma quando la legge a voce alta qualcun altro magari non sai rendere quello che ti diverte di più anzi ti chiedi ma che lo devo fare a voce alta sono delle cose che se c'hai ispirazione per leggerlo ti divertono però no ecco non leggerò il libro di sani gesualdi di nino frassica perché è meglio ascoltarlo cercandolo in internet a nino frassica perché non rende l'idea leggendolo a voce alta perlomeno io non so interpretarlo poi a tanti libri da da commentare soprattutto adesso sto leggendo di elemire zolla archeti più uscita dal mondo lo stupore infantile e però devo fare una sintesi se non ci metto troppo tempo a leggerli poi che altro vorrei dire che da molti giorni che non faccio un video mi dispiace e saluto tutti quelli che mi seguono adesso qua sta diventando note sono le 18 meno 10 da devono essere le 22 meno 10 beh c'è stato di rilievo la visita del papa a gerusalemme soprattutto che si sia fermato non solo davanti il muro del pianto come ed uopo per ogni capo di stato ma addirittura abbia toccato con la fronte il muro che separa i palestinesi e gli israeliani che è stata la cosa più importante di tutto il viaggio speriamo che lui possa riuscire a portare pace fra quei due popoli martoriati da uno stesso conflitto e che se sarebbe veramente la cosa più importante per tutti in questo mondo avere un po di pace e io di fronte alla sofferenza della gente non importa se palestinese o ebrea soffro molto poi che altro posso dire vabbè si scoprono corruzioni tangenti pure nel governo quelli che hanno integrato il governo monti e non c'è da stupirsi la corruzione è endemica in italia e non è tanto un problema di partito o di politico ma proprio la struttura del potere che è corrotta il sistema politico che bisogna cambiare per quello non è un problema grillo si grillo no berlusconi si berlusconi no letta si letano ma tutta l'amministrazione regionale provinciale comunale i funzionari tutto il sistema di potere dal basso verso l'alto che è corrotto includendo gli assessori regionali provinciali comunali i senatori eccetera ma è dal basso capillarmente che si è diffusa alla corruzione fino all'alto e viceversa quindi bisogna riformare la politica in italia ma non è una questione di partito politico è una questione proprio di sistema beh con questo vi saluto e quindi spero di fare un video al più presto oggi non ho potuto perché ho avuto dei problemi e quindi mi filmo adesso ma potendo mi filmo anche domani dopodomani chi lo sa questo è stato un chat che una chiacchiera vi lascio spero che questo vi divierta e se vi diverte per favore votate mi piace mettetelo fra i vostri video preferiti poi se potrete fare clicchi nei banner pubblicitari vi ringrazierei moltissimo